Mario Balsamo al Sudestival, film in concorso. Mario, narrare di sé avendo il coraggio, lo spirito, scommettendo di guardarsi dopo aver vissuto quello che si narra sul grande schermo. Sì, è sempre un momento molto complesso, soprattutto con questo film, perché io sono nel racconto, sono dentro l'inquadratura insieme a Guido Gabrielli, il regista di una storia che parte da un fatto di malattia grave che ha colpito prima Guido e poi me, ma che poi si traduce, si trasforma in un on the road sull'amicizia, su quello che è uno dei valori universali e più importanti per affrontare e superare o tentare di superare un evento così traumatico come è un tumore. Un film, certo, come tu dici, sul superamento, un film sul ciò che è accaduto e ciò che non è più, però è anche vero che è un film che esalta l'amicizia, esalta il legame, esalta la condivisione. Se, come dicevamo in occasione dello spettacolo delle 18 con i giovani della giuria, se davvero la letteratura esiste perché la realtà non basta, tu ritieni che un film del genere, al di là di coloro i quali hanno vissuto e si identificano, com'è successo in sala con il film e i contenuti del film, ma davvero al di là di coloro che, appunto, ripeto, hanno condiviso la tua condizione, il cinema è capace di raggiungere qualcosa alla realtà? Ma io penso assolutamente di sì. Devo dirti che in particolar modo il cinema documentario ha una interferenza, un'interrelazione, un coinvolgimento con la realtà, le realtà fortissime. Ti dico molto semplicemente, in relazione proprio a questo film, che durante il montaggio, che ha richiesto un po' di mesi, perché era qualcosa che stava crescendo dentro di me e lo condividevo con i due montatori, Tommaso Orbi e Benny Atria, è cambiato questo film, ma cambiando il film sono cambiato io, perché mi sono reso conto che inizialmente, attraverso questo film e narrando la mia malattia, avevo bisogno di una dimensione ludica, di un gioco, di qualcosa che mi portasse fuori da quello che avevo vissuto, però a un certo punto ho capito che il gioco non mi bastava e quindi nel momento successivo, nella supervisione successiva al montaggio, e quindi nel nuovo montaggio che abbiamo fatto, è successo qualcosa di straordinario, che il film è diventato più maturo, è diventato un film più adulto, che ci ha dato la possibilità di crescere al di fuori del film stesso, insomma. Cioè il film ha condizionato la mia maturità. Lunga vita a James Bond e lunga vita a Noi non siamo come James Bond. Eh sì, lunga vita a Mario e Guido, con la convenzione che poi, come ci ha mostrato anche l'ultimo James Bond, bellissimo, Skyfall, siamo tutti esseri umani, e che il James Bond degli anni 60 o degli anni 70, invincibile e immortale, forse adesso è un po' più vincibile, un po' più mortale, ma ci piace di più.